Salvini, io non so se lei, immagino di sì, non so se lei ha visto questa vignetta, vorrei sapere che cosa ne pensa, vedere gli italiani rappresentati in quel modo. Ma gli italiani portano esperienza, rispetto per i paesi che li ospitano, quindi la vignetta mi sembra sciocca. Detto questo, gli svizzeri fanno benissimo il loro mestiere, gli svizzeri difendono i loro cittadini, i loro lavoratori, i loro stipendi, i loro confini, vogliono mettere un tetto all'immigrazione per difendere la loro gente, cosa che fa tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti al Canada, quindi io vorrei fare lo stesso in Italia, vorrei che l'Italia difendesse alla stessa maniera i suoi lavoratori, i suoi confini, i suoi disoccupati, e quindi alla Svizzera io dico che dal punto di vista mio e della Lega non deve entrare più un solo immigrato fino a che non troveranno un lavoro i 4 milioni di disoccupati italiani che in questo momento magari ci stanno guardando la casa.